cose di macchine come caspita si chiamano autoricambi forse autoricambi allora antifurto vediamo se autoricambi arrendamenti automobili fiat vediamo fosvagen Toyota Renault Peugeot Fiat Volvo General Motors Opel Toyota Mercedes e Volkswagen Honda Volvo W W lui ce l'ha uno di quelli a fare però è della Renault è un po più basso è più stretto non può fare il stesso lavoro che fa questo